Sfiorata la tragedia questa mattina in pieno centro cittadino, un ragazzo extracomunitario è salito sul tetto dell'oratorio Giovanni Paolo II in piazza della Repubblica ad Agropoli minacciando di gettarsi nel vuoto. Diversi cittadini che hanno assistito alla scena hanno fatto scattare l'allarme e subito sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione. Fortunatamente l'uomo è stato fermato dall'intervento di Orlando di Scola, dipendente della BCC dei Comuni Cilentani, sita di fronte l'oratorio, e presidente di Cilentomania che prontamente è salito sul tetto e ha convinto il giovane a fare retromarcia. Il motivo del gesto è legato a motivi familiari, sono pronto a dargli una mano di Chiara di Scola, sono vicende che al giorno d'oggi creano una pena e tristezza immensa.